Aspettative per il Salone del Mobile 2015? Le aspettative sono molto alte, considerato il fatto che il Salone del Mobile è la più grande vetrina per quanto riguarda il designer e ci aspettiamo, come tutti gli anni, di ribadire questa nostra leadership e la testimonianza è data dagli compratori che arrivano da tutto il mondo. Per cui credo poi quest'anno, legato un po' all'Expo, che le aziende abbiano fatto di più di quello che è il solito routine. Per cui, anche se considerato che alcuni mercati sono fermi, abbiamo un dolo molto forte che va nella direzione di poter esportare quei paesi che fino all'altro giorno erano un po' contratti. Per cui le aspettative, ripeto, sono molto alte. Insomma, gli imprenditori non hanno dormito sugli allori, anzi hanno dato più del meglio. Assolutamente sì, è presto per dirlo, però conoscendo la mentalità delle nostre aziende, dei nostri industriali, sono benissimo che, ripeto, per l'Expo 2015, quello che riguarda le varie forze che mettiamo in campo sono sicuramente molto più alte. Grazie, grazie mille.